l'asilo sono già le tre del pomeriggio andiamo a svegliare i bambini Alex, Jean, Brilli, sveglia ehi Rubi, dai ragazzi, in piedi e adesso ci contiamo uno, due, tre, quattro e cinque Fabio, non è che potresti aggiungere della scritta? certo Brilli, con piacere prego grazie hop, ho oi, Rubi, che fai? ehi Rubi, non ci si comporta così uffa, ma dai, è divertente oh, Fabio, un attimo, ho dimenticato una cosa ma Alex, chissà dove sarà andato c'è anche il mio cavallo che vorrei lavare va bene oh, come sei diventato pulito ma oggi a che cosa giochiamo? oggi organizzeremo una bella merenda adesso non ci mancano che le sedie ragazzi, andate a prenderle ecco la prima e anche questa ok, adesso mettiamo le posate intanto ecco i piatti oh, scusa Brilli, è colpa mia che non ho asciugato bene il pavimento oi, 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 va bene non fa niente, dai ok, per scusarmi li raccolgo e li metto in tavola e con questi sono tutti e cosa ci manca ancora? beh, coltelli e forchette che vado a prendere io ecco qua direi che non manca che il cibo iniziamo con una splendida torta e cos'altro abbiamo per la nostra merenda? dei buonissimi dolcetti un altro carico di dolci? ma con tutto questo cibo dovremmo anche bere le bibite dove sono? oh, Alex, hai fatto proprio bene a ricordarci eccole qua oh, giusto in tempo sono arrivati i nostri ospiti prego, madama oh, grazie e voi potete sedervi qui eh, corpo di mille balene dov'è il mio posto? eh, eccolo eccolo, vieni con me oh, ragazzi avete preparato una splendida merenda per i vostri ospiti ora potete andare a passeggiare io intanto vi preparo la cena ragazzi, dai montiamo questa carrozza una ruota è messa ehi, penso che già potremmo andarci rubi un po' di pazienza mancano ancora due ruote ah, va bene, va bene mentre i ragazzi montano la carrozza io spazzolo la cavalla la carrozza è pronta, brilli portaci la cavalla haha, che spazzolo passo ragazzi, mi è venuta fame andiamo a mangiare questa sì, che è un'ottima idea oggi prepareremo la pasta con la panna e i funghi ora che l'acqua bolle possiamo buttare la pasta adesso prepariamo i funghi adesso mettiamo a cuocere i funghi ora mescoliamo pasta e funghi poi aggiungiamo la panna mmm, che profumino ottimi oh, squisiti oh, ragazzi pare che siano arrivati i vostri genitori oh, grazie Fabio ci siamo divertiti tantissimo ciao ciao ragazzi al prossimo video ciao 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 ciao